Circa 1.300 le decisioni della Commissione Tributaria Regionale nell'anno 2018, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Sono i dati dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Sarà l'anno in cui ci sarà il processo telematico obbligatorio, ma servono autonomia e personale. È una giustizia tributaria che funziona comunque, con una magistratura qualificata e produttiva, che riesce a decidere un numero di controverse superiori a quelle di nuova escrizione, abbattendo l'arretrato. Il tempo medio di definizione del doppio grado del giudizio di merito è contenuto poi entro il periodo di due o tre anni. I dati sono stati snocciolati dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, Gian Saverio Cappa. Discorso diverso per i giudizi tributari in Cassazione, che comportano una durata media molto superiore. Per il Presidente Cappa una riforma è necessaria, ma finché ci sia un riconoscimento concreto e strutturale della magistratura tributaria in materia ordinamentale, che sia cioè una magistratura più autonoma. La giustizia tributaria funziona, anche con le difficoltà organiche, organizzative, è una giustizia che funziona. Anche quest'anno noi in Abruzzo siamo riusciti ad abbattere la pendenza oltre la misura del 10%, che è uno degli obiettivi che ci siamo sempre prefissati e per fortuna anche quest'anno ci siamo riusciti, sia in commissioni regionali sia in tutte le commissioni della provincia dell'Abruzzo. È allo studio del Parlamento un nuovo progetto di riforma. Questo progetto di riforma, a differenza di altri progetti che erano stati posti nelle altre legislature e che non sono andati a buon fine, invece parte da un lodevole presupposto. Il lodevole presupposto è questo, rendere la magistratura tributaria autonoma. Quindi è una forma di garanzia assoluta questa ed è una riforma che auspichiamo perché sembra spinta da lodevole intenzioni. Risorse e dotazioni organizzative poi sono sempre più necessarie e la carenza di giudici nelle commissioni provinciali e regionali si fa sentire. C'è questa carenza di organico, si tenta di porre rimedio con applicazioni temporanee e con spigolo di abbenegrazione e di sacrificio da parte dei giudici che ci stanno. Per fortuna i giudici rispondono positivamente. Cappa ha sottolineato nella sua relazione anche la proficua attività di recupero da parte della Guardia di Finanza dell'Agenzia delle Entrate in tema di lotta all'evasione fiscale. Tornando ai dati, sia in primo che in secondo grado sono diminuite le pendenze. L'arretrato diminuirà ulteriormente anche con il processo telematico che sarà obbligatorio da luglio. Il processo telematico, specie previsione del futuro, anche con la futura riforma che ci sarà, è un elemento necessario perché accorcerà di molto i tempi della giustizia.